Brando, mi sono sempre chiesto qual è il tuo rapporto con le droghe? Io amo il crack cocaine. Sembra che sia l'unica cosa che vi chiedete, ragazzi. Con la dipendenza in generale, perché io ho un rapporto strano con la dipendenza. Ho veramente sempre temuto le dipendenze perché so che sarei facilmente, ci cadrei facilmente in qualunque dipendenza. Quindi sempre stato molto scettico nel provare droghe più avanzate di cannetta e alcol. Sempre però ho voluto provare tutto, quindi ho fatto le mie sperimentazioni, ma sempre pucciando il piedino proprio così, piano piano, e poi ritraendomi e dicendo ok, l'ho fatto, ciao. Canne e alcol sono già una cosa che mi creano moltissima dipendenza. Un botto di dipendenza, vazzi. Creano dipendenza le canne. Cioè le fumo tutti i giorni. Cioè, e non perché ho voglia, cioè perché, sì perché ho voglia, ma non perché... Ah sì, fumiamoci una cannetta, va, va là ragazzi, che ne dite se questo weekend andassimo a fumarci una cannetta? No, sempre, tutti i giorni, basta, basta. Grazie a tutti.